Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando i pilastri sospesi, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto, o per meglio dire una serie di prodotti che potranno suscitare l'interesse di coloro che viaggiano per i piani frutto della mente geniale di Garfield. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia la serie Mana 8 di Ultra Pro in collaborazione con Magic The Gathering. Partiamo dalla prima protezione per il vostro deck, ovvero le bustine protettive. Le Apex, il prodotto di punta della casa americana, vi consentiranno di mostrare al vostro avversario la dedizione al colore che preferite tra tutti. Con 105 unità contenute nella scatola, divise in due confezioni ben distinte, riporteranno il logo della terra di riferimento direttamente stampata sul dorso della sleeve con il classico stemma di Magic in basso a sinistra, con a completare il tutto una cornice che riprenderà la tonalità della terra stessa. Bella, non è vero? Sì, ma poco funzionale. Ok, Ultra Pro, avete capito bene come si creano delle bustine che non si ritrovano con il dorso scollato dopo una decina di partite e fin qui ci siamo arrivati. Ma ora c'è da considerare la resistenza della bustina a livello strutturale. Per farvi un esempio. E non ho praticamente usato forza. Quindi ok, ci siamo se prendiamo il lato realizzativo, meno se prendiamo quello pratico. Se vorrete comunque disporre di questo accessorio sappiate che per il prezzo al quale verranno vendute 20 euro come valore consigliato ci saranno alternative più economiche e molto più performanti come le classiche Dragon Shield ad esempio che dureranno molto di più facendovi tenere in tasca anche una parte dell'importo. Passiamo ora al Playmat Stitched che farà la sua bella figura sui tavoli da gioco. Minimale nel complesso presenterà come per le bustine unicamente due colori. Quello caratteristico del mana in questione, il quale simbolo acampeggerà sovrano occupando il centro dell'articolo e riportati in basso sia il nome del TCG a sinistra che quello della casa madre a destra, il tutto su sfondo bianco. In più le cuciture sui bordi, sempre in tonalità rossa, gli conferiranno quel tocco di cura in più. Con una base di gomma antiscivolo inoltre avrete la sicurezza di mantenere salda sulla superficie di gioco la vostra plancia, sempre pronta a supportarvi in nuove sfide. Questa è una piccola chicca che i più fedeli al proprio colore, come per me il rosso, potranno reperire anche se personalmente non amo molto i Playmat con cucitura, proprio perché con il tempo e a causa dell'usura vanno a sfilacciarsi rendendo lo stesso tappetino anche poco bello a vedersi. Per non parlare dello sporco che sul bianco non tarderà a farsi vedere. Inoltre, ma credo che questa sia una mia problematica, il tappetino è arrivato piegato sul lato sinistro, vedete qui. Ha praticamente memorizzato una ondulazione errata durante la fase di inscatolamento e quindi dovrò sicuramente ricorrere ai vari libri pesanti che ho a disposizione per tentare di ripristinarlo al suo stato originario. In vendita ad un prezzo indicativo di 25€, questo Playmat di certo rispecchierà la vostra passione per il colore che sceglierete, ma resto sempre del pensiero che risparmiando 10€ potrete optare per un Game Genic o Ultra Pro Standard che, va bene, saranno meno spettacolari del cui presente, ma svolgeranno lo stesso compito senza fare una piega. Ed in questo caso… c'è proprio da dirlo. Ma passiamo ora, dopo aver parlato della protezione per le carte singole, al complessivo, analizzando due prodotti che metteranno al sicuro il vostro deck dal mondo che lo circonda durante il trasporto. La prima soluzione sarà il Pro 100 Plus Deck Box, che presenterà unicamente il logo della montagna sul coperchio, nella parte frontale e sul corpo principale, sia sul lato destro che sinistro che sul dorso, il nome del TCG in questione sulla parte superiore e tutte le informazioni legali del caso riportate nella parte bassa della scatola in finitura lucida visibile contro luce. Come sarà visibile? Allo stesso modo la trama che interesserà l'esterno del prodotto, fondo escluso, che vedrà raffigurati in modo minimale montagne, nuvole e il sempre presente mana, che daranno quel tocco in più all'intero accessorio. Aprendolo, al suo interno troverete un unico compartimento totalmente di colore rosso, dove potranno essere riposti fino a due mazzi standard ed un commander con singola bustina pronti per essere utilizzati. Se vorrete comunque portare con voi anche una side, potrete creare due ambienti ben distinti tra loro grazie al divisore incluso che riprenderà in tutto e per tutto lo stile del deck box, in due colorazioni alternate, rosso su bianco e bianco su rosso, così da avere tutto quello che vi servirà sempre a portata di mano. Disponibile ad un prezzo indicativo di 6 euro, questo portamazzo potrà essere una validissima soluzione per i giocatori del Pauper, ad esempio, dove con un esborso minimo si avrà a disposizione un accessorio totalmente brandizzato e anche bello a vedersi. Ovviamente non aspettatevi una chiusura salda, così non sarà e che se ci saranno cadute accidentali il prodotto non ne risentirà. È comunque plastica semidura, il valore insito è quello che è e va preso per la sua natura nuda e cruda, un deck box da battaglia ideale per i principianti che vogliono avvicinarsi alle dinamiche del primo TCG della storia, ma con un certo stile. Il 100 Plus che abbiamo appena visto comunque non sarà l'unica opzione di acquisto perché ne esiste una seconda, di fascia più alta, che accontenterà gli appassionati più esigenti. L'Alcove H-Box riprenderà, come per tutti gli articoli della serie, lo stesso stile minimale e riporterà su sfondo bianco il solo logo della montagna inciso sulla superficie in similpelle sulla parte frontale e dorsale, il marchio del gioco di carte sulla parte superiore, quest'ultimo assieme alle informazioni legali del caso descritte sul fondo del prodotto e le iniziali della casa produttrice in basso a destra sul lato destro e in basso a sinistra su quello sinistro. Una volta aperto l'Age, come per il 100 Plus, vi ritroverete ad osservare un interno totalmente rosso per quanto riguarda il compartimento principale, mentre per il coperchio la tinta unita verrà caratterizzata dalla trama presente anche nel Pro, dove montagne, nuvole e il logo del fuoco saranno visibili in modo più chiaro e nitido esponendo la superficie interessata contro luce. Anche qui al suo interno potranno essere ubicati due deck da 60 carte o un commander con singola bustina protettiva e andando a chiudere il tutto attraverso il sistema combinato di calamite e perni potrete stare certi che le carte che porterete con voi si troveranno in cassaforte. Infatti per evitare che il tutto fuoriesca dovrete assicurarvi di sentire un doppio clic proprio come questo. Uno, due. In questo modo saprete che sia la calamita che il perno avranno fatto il loro lavoro. Ora però parliamo dei lati negativi partendo dal suo colore bianco che rimarrà tale all'interno di uno zaino come la neve marsolina ovvero che dura dalla sera alla mattina e questo è uno. Il secondo è proprio la sua chiusura. Già il suo punto forte è anche il suo punto debole perché una volta sigillato il tutto riaprire la linguetta frontale risulterà piuttosto ostico a meno che non si faccia pressione sui lati. In questo modo verrà tutto via senza imprimere troppa forza ma converrete con me che apri una volta, apri due, apri tre e quattro alla centesima inizierete a notare una deformazione della struttura cosa poco carina da vedere. Ultra Pro. Molto bene comunque ottimo lavoro ma cercate di trovare una via di mezzo. Disponibile in mercato a 35 euro questo accessorio personalmente non mi ha convinto molto. È la tipica bella trovata ma mal realizzata. Sì bellissimo per carità ma un prodotto come questo mi piacerebbe utilizzarlo, non guardarlo e mi piacerebbe giocare anche le carte che ci sono all'interno già che ci siamo. Per il resto tutto perfetto. Se si riuscirà a risolvere anche la problematica della chiusura sono certo che l'alcove finalmente potrà dire la sua in modo definitivo nell'olimpo dei deck box. Per quanto riguarda invece i collezionisti o quei giocatori che hanno una propria riserva personale esisteranno due soluzioni ben distinte che custodiranno nel migliore dei modi ogni elemento presente in raccolta. Il Pro Binder da 9 tasche di sicuro sarà la scelta più economica delle due. L'album presenterà il solito logo solitario del mana in questione sulla parte frontale, il nome del TCG e quello della casa madre rispettivamente al centro e in basso a destra sulla quarta di copertina e il marchio dello stesso con anche qui il mana rosso agli estremi raffigurati sulla rilegatura. Tutta la superficie bianca inoltre avrà come di consueto la solita trama visibile contro luce che garantirà all'intero accessorio uno stile unico. Aprendo il binder attraverso l'elastico che riprenderà la tonalità dello stesso mana protagonista accederete alle 20 pagine che anche qui risulteranno essere rosse come la seconda e terza di copertina. Ogni facciata inoltre ospiterà 9 carte che potranno essere caricate lateralmente per un massimo di 360 unità. Ogni busta contenitiva in più sarà saldata a fusione alla propria struttura principale così da garantire una maggiore longevità che anche con il passare del tempo non risentirà dell'usura. Disponibile ad un prezzo indicativo di 25 euro? Questo accessorio mi ha assolutamente convinto. Non sono un amante degli album senza zip ma qui c'è un prodotto che svolgerà il proprio lavoro nel migliore dei modi. Ovviamente come per ogni altro articolo di questa serie il prezzo sarà superiore rispetto ai suoi concorrenti ma se avrete la possibilità di togliervi un piccolo sfizio lui o a seconda del vostro colore preferito ovviamente sarà la scelta. Ne consiglio vivamente l'acquisto. Ed arriviamo dulcis in fundo allo Zippered Pro da 12 tasche. Anche qui come per la sua controparte minore verranno riportate le stesse identiche icone sia sulla parte frontale in rilegatura e sul dorso per il marchio di Magic mentre per quanto riguarda la casa produttrice saranno presenti in basso a sinistra le sole iniziali. Per accedere all'interno del prodotto dovrete utilizzare la zip che riporterà anche qui il simbolo della montagna direttamente impresso sulla linguetta ed una volta aperto troverete proprio come per il 9 tasche tutte le 20 pagine assieme alla seconda e terza di copertina interamente in tinta rossa. La trama in rilievo lucido qui sarà presente proprio su queste ultime e come per il ProBinder ognuna delle 12 tasche ad inserimento laterale sarà fissata sulla rispettiva pagina attraverso un sistema di pressofusione garantendo anche a pieno carico che in questo caso vedrà un totale di 148 carte sicurezza e stabilità. Bello ed impeccabile vero? Non direi proprio nonostante sia una categoria che personalmente amo quella dei binder con la zip qui ci sono prevalentemente due problematiche. La prima è bianco e il suo materiale di costruzione esterno ovvero questa sorta di similpelle attenderà lo sporco a braccia aperte e per quanto mi riguarda già lo ha fatto infatti ci sono i primi segni di utilizzo sulla superficie e questo ovviamente non è che mi piaccia più di tanto. Ho paura ed è fondata data anche l'esperienza che da bianco con il tempo e l'utilizzo il suo colore originario resterà un lontano ricordo vertendo più sul giallastro. Seconda problematica è rappresentata qui come nel deck box dalla chiusura o per meglio dire dalla zip. Mi spiego meglio. Quando si andrà ad aprire lo zippered l'eccessivo materiale utilizzato in fase di realizzazione andrà a formare una sorta di calzino che toccherà le pagine. Questo a livello ottico almeno parlo per me non sarà proprio il massimo anche perché se prendiamo un diretto concorrente come lo zip up della gamegenic questo problema non lo darà mantenendo quello spazio che seppur minimo non farà toccare la zip con le pagine. Ora quando lo chiuderete non ci saranno problemi e va bene che a pieno carico più stoffa equivarrà a maggiore spazio ma a differenza di altri binder che cresceranno in spessore questo formerà una sorta di V che inevitabilmente occuperà più spazio rispetto ad un album della stessa categoria. Venduto ad un prezzo indicativo di 55 euro questo prodotto non rappresenta almeno per il sottoscritto il top di gamma. Esistono album che sono di sicuro realizzati con più cognizioni di causa e disponibili in mercato a meno. Quindi tra tutti e sei gli accessori di cui abbiamo parlato solamente un paio se ne salvano mentre per gli altri bisognerebbe aggiustare qualcosa. Niente di così impossibile da fare ma fino a che saranno presenti questi difetti i prodotti in questione non potranno dare il 100% ed essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità. Di sicuro la serie Mana 8 rappresenta una validissima idea ci sono ancora delle piccolezze da aggiustare e mi auguro che si sistemeranno con le prossime uscite ma al momento godetevi il godibile e scagliate il grimorio che vi rappresenta come giocatori addosso ad altri concorrenti in match sempre pieni di colpi di scena. Prima di concludere volevo ringraziare i signori di Fantasia Store per avermi dato la possibilità di parlare dei prodotti mostrati in questo contenuto. Vi lascerò tutti i link degli articoli inviatimi e del loro negozio online come sempre in descrizione. Bene è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!